Incontro top secret tra FBI americana e questura di Bari. E' avvenuto nei giorni scorsi tra un detective americano del Federal Bureau Investigation e Giovanni De Stavola, ex responsabile della Digos di Brescia. Al centro le indagini sul terrorismo internazionale condotte dalla procura di Bari e i punti di contatto che ci potrebbero essere con quelle condotte a più ampio raggio negli Stati Uniti. Sarebbero due i filoni di indagine che la Digos sta approfondendo con particolare attenzione e per i quali sarebbe stata avviata anche una forma di collaborazione. Bari, per la sua particolare posizione strategica, è considerata una piazza da tenere sotto attenta osservazione in relazione al transito di terroristi, come le numerose indagini hanno dimostrato. L'ultima in ordine di tempo sui contatti tra Mohamed Bulel, l'attentatore della strage di Nizza, e Chokri Shafrud, il connazionale che ha vissuto a Gravina. Altre indagini riguardano fiancheggiatori che nel capologo pugliese forniscono supporto logistico e documenti per chi è diretto in Europa. Ma le indagini della Digos sul terrorismo internazionale affondano le radici nel tempo. I primi arresti risalgono al novembre del 2008, quando uno sceicco imam e un ingegnere francese furono arrestati nel porto per aver favorito l'immigrazione di cinque clandestini trovati a bordo del loro camper. Dall'esame del contenuto dei supporti magnetici trovati agli indagati era poi scaturita un'altra indagine, appunto per terrorismo internazionale.